Stanno meglio i bambini che erano stati ricoverati al Maier di Firenze dopo l'intossicazione da monossido di carbonio? La sera dell'epifania nella chiesa di Pergo a Cortona sono tutti in via di dimissione dunque nelle prossime ore saranno tutti a casa. Intanto proseguono le indagini da parte degli inquirenti per capire quale sia stata la fonte del gas che ha saturato i locali della chiesa provocando malori tra adulti e bambini. L'impianto di riscaldamento è stato posto sotto sequestro, la procura ha aperto un'inchiesta non ci sarebbero al momento indagati, il reato ipotizzato è quello di disastro colposo. Spetterà ai vigili del fuoco accertare perché il riscaldamento della parrocchia nonostante i controlli e le certificazioni come ricordato la sera stessa dal parroco abbia generato questa fuoriuscita di gas peraltro. Si tratta del secondo episodio a distanza di poco più di un anno. La cosa strana è che questo si era già verificato a novembre di due anni fa e tra l'altro all'epoca fu Don Benito, l'allora parroco che ne ebbe le peggiori conseguenze. Da quel momento naturalmente sono stati fatti tutti i lavori richiesti per rimettere a norma l'impianto che è stato certificato. L'impianto è ricominciato a funzionare dall'immacolata, dall'8 dicembre, quindi da poco. Il proprio Don Piero Sabatini è stato al centro nelle ultime ore di una polemica scaturita da una lettera condivisa da molti genitori nella quale vengono stigmatizzate le parole del parroco rilasciate anche alla nostra emittente, parole che non avrebbero avuto alcun riguardo soprattutto nei confronti dei bambini. Un attacco ingiusto ha replicato il prete adesso l'importante è che tutti stiano bene. Quando mi hanno misurato l'ossigenazione anch'io ero basso ma i preti non è facile ammazzarli quindi sono qui. Comunque l'importante è che ora tutti stiano bene e che passi questo momento. Certo, per questa comunità che è una comunità che per varie ragioni aveva bisogno di ritrovare un po' di grinta, di slancio, ora bisognerà lavorare il doppio. Ma ce la faremo.